Voi lo sapete che il settimo municipio ha tanti abitanti quanti ne ha Bonn e noi possiamo pensare ancora che andiamo avanti con dei presenti municipi che hanno solo qualche competenza e che quando i cittadini gli vanno a chiedere, giustamente chiedere conto di quello che accade nei loro territori, gli rispondono ma io purtroppo non ho soldi, ma io purtroppo non ho personale, dipende dall'amministrazione comunale, il marciapiede è rotto, però quello non dipende da me perché siccome sta sulla viabilità principale dipende dall'assessorato ai lavori pubblici, a me compete soltanto il pezzo che riguarda il tratto che porta all'interno del quartiere. Ecco, io penso che noi non dobbiamo fermarci e noi dobbiamo andare avanti sul decentramento e i presidenti di un municipio avranno non solo più competenze, avranno più soldi, avranno più personale. Si alleggerirà la macchina centrale che avrà sostanzialmente e soprattutto compiti di programmazione e compiti di controllo. Sono importanti i presidenti di un municipio, è importante l'applicazione.